Nonostante l'attività sismica in Puglia sia rilevante nella zona del Gargano, è meno studiata e quindi conosciuta di quella dell'Appennino. La regione presenta anche una specifica vulnerabilità ai maremoti dovuta all'estesa superficie costiera e alla sua centralità nel Mediterraneo. Per questo, ha sottolineato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per migliorare la riduzione dei rischi derivanti dall'attività sismica, è cruciale incrementare il monitoraggio di questi fenomeni arrivando a comprendere le più profonde dinamiche del pianeta. Questa attività fondamentale per la ricerca in sé e per la tutela del territorio e delle comunità dal rischio sismico e da maremoto è stata messa in atto attraverso la collaborazione tra l'INGV, il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università di Bari e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che ha rafforzato la rete di monitoraggio sismica e mareografica sul territorio. Fondamentale per il territorio pugliese è anche il monitoraggio degli tsunami nel Mediterraneo. A tale scopo, alle stazioni mareografiche di Monopoli e Barletta gestite dall'Uniba e ai mareografi dell'ISPRA già attivi a Otranto-Vieste, alle isole Tremiti e a Taranto, è stato recentemente installato un nuovo mareografo a Santa Maria di Leuca.